Sono entrati in questa banca nella zona universitaria di Milano attraverso un buco scavato nel pavimento e collegato ai cunicoli della rete fognaria della città utilizzando lo scavo di un palazzo vicino. È successo questa mattina verso le ore 8.30 all'apertura della filiale. Sei uomini nel gruppo, probabilmente tutti italiani, esperti sono in fughe armati. Hanno sorpreso all'interno il direttore, le due donne dipendenti li hanno minacciati con le pistole. Il direttore colpito lievemente alla testa, stanno tutti bene nessun ferito né clienti nostaggio. Sono entrati dalle fogne, sono entrati e hanno chiesto di aprire il cavo della banca. Hanno cercato di svaliggiare, non sappiamo quante cassette siano state svaliggiate fatto questo, come sono entrati sono usciti dalle fogne. Hanno fatto proprio il buco nel pavimento. Stavamo in tre, siamo rimasti dentro in due perché uno dei tre è riuscito a scappare sentendo le mie grida. Da una prima ricostruzione i rapinatori hanno minacciato i tre dipendenti, sono riusciti a svuotare alcune cassette di sicurezza. Non è ancora stimabile il valore del bottino sottratto, ma non sono riusciti ad aprire la cassaforte perché l'apertura è a tempo, l'intervento tempestivo della polizia li ha messi in fuga. Per guadagnare minuti preziosi il gruppo ha utilizzato un diversivo, innescando un estintore che ha emesso fumo, quando gli agenti sporchi di fango hanno provato ad inseguirli a lungo nelle condutture sottoterra. I ladri erano già riusciti a far perdere le tracce. A far scattare l'allarme una delle due donne dipendenti riuscita a scappare dalla filiale. In pochi minuti la zona è stata circondata dalle forze dell'ordine. Per tutta la mattina esperti delle reti fognarie della città hanno cercato di capire quali potrebbero essere. Stati i tombini aperti per la fuga, i cunicoli utilizzati, gli investigatori stanno analizzando tutte le telecamere di videosorveglianza della zona. Sarà un'indagine lunga e complessa. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta al momento contro i gnoti.